La Vulture è solo in testa alla classifica dopo 5 giornate nel massimo torneo regionale. Bastano 32 minuti per calare il poker alla paternicum, decidono Magliano, Alassani, San Bataro e Figlio Meni. Al secondo posto invece troviamo il Matera Grumentum che sbanga l'atronico grazie alla Carra e Marotta, addirittura i materani potrebbero triplicare nel finale ma Falco si vede parare un rigore dal termale Colella, mentre il Mondescaglioso retrocede al ultimo gradino del podio in virtù del pari casalingo contro l'Elettra Merconia a reti inviolate e così viene raggiunto in terza posizione dal Real Senise che batte per 3-2 il Ferrandina. I sinnici si erano portati sul doppio vantaggio grazie al bis di Lavecchia e l'autogol di Fortunato. Poi gli aragonesi sono riusciti a dimezzare il passivo con Dametti e De Simini. Male il Melfi che invece cade a Venosa per mano di Serra e così viene scavalcato sia dagli avversari di turno che da Pomarico e Policoro. Il Pomarico riesce a sbangare Villa d'Agri nella ripresa grazie ai gol di Ranieri e Caponero che violano l'imbattibilità interna del Moliterno così come riesce a vincere in trasferta il Policoro con Cirelli e Canci che annullano il momentaneo pareggio di Mandile e i padroni di casa che perdono anch'essi l'imbattibilità in casa. Torna al successo infine il Brienza che con Claps e Nano pongono anche fine alla panchina di Oraziti che si è dimesso dalla panchina giallorossa. Presidente Michele Anastasia un 4 a 0 che non lascia spazio a nessuna recriminazione una vittoria larga quattro giocatori diversi in rete era già successo a Tolve ma la cosa più importante è il primato in solitudine. Sì è stata una vittoria diciamo larga nel primo tempo abbiamo chiuso la partita poi nel secondo tempo ci siamo un po' adagiati sul risultato però va benissimo così adesso siamo primi in classifica ce la godiamo. Una squadra che ha smaltito la rabbia dell'ingiusta sconfitta di mercoledì a Matera? No rabbia no perché poi alla fine abbiamo visto una squadra messa bene in campo abbiamo fatto un'ottima partita quindi siamo coscienti che ce la possiamo giocare nel ritorno. Una squadra che può crescere ancora? Sicuramente sì ci sono dei margini di crescita ci sono ancora alcuni giocatori infortunati tipo Montenegro però alla fine la squadra sta crescendo bene domenica per domenica. Quanto è grande la felicità di ritrovarsi dopo cinque giornate da soli in testa alla classifica? Beh questa è una grande soddisfazione noi aspettavamo questo momento dall'inizio del del campionato siamo sicuri che con un po' di fortuna riusciremo a mantenere la prima posizione in classifica. Una squadra che diverte fa spettacolo spettatori soddisfatti bisogna lavorare ancora in questa direzione? La squadra gioca molto bene il mister mette bene la squadra in campo ci sono ancora un po' pochi tifosi sugli spalti però sono sicuro che piano piano cresceranno anche i tifosi. In chiusura domenica a Ferrandina con l'imperativo ovviamente di cercare di portare a casa i tre punti e mantenere la leadership. A Ferrandina andiamo sempre come detto prima tutte le partite per vincere. A Ferrandina cercheremo di mantenere il primato in classifica. Siamo sicuri di fare anche una buona partita. Poi il pensiero si sposta alla sfida con il Matera Grumentum. L'interesse degli sportivi è già proiettato al 27 ottobre. Importante sì arrivare il 27 ottobre con la mentalità giusta perché sarà una partita molto importante. La Coppa Italia per noi è un obiettivo che ci teniamo tanto quindi ci giocheremo la partita fino in fondo. Oggi è una giornata particolare, più di qualche sorpresa. Ah sì, in effetti vedendo le partite c'è la sconfitta del Melfi che fa scalpore, c'è il pareggio del Monte Scaglioso. Certo non ce l'aspettavamo, per noi va bene così. Mario Cirigliano, misto del Paternicum, dunque una sconfitta che non lascia appello. Pensavamo che il Paternicum potesse impensierire in qualche modo la squadra di casa ma nulla. Sì, sapevamo di avere una partita difficile oggi. Poi partire dopo cinque minuti subito con il passivo di 1-0 ci ha complicato ancora di più una situazione già pesante per noi per quanto riguarda alcune assenze. Io pure avevo impostato la partita in un modo diverso dove eventualmente attendere il primo tempo e potercela giocare poi diversamente nel secondo tempo. Purtroppo è andata male da subito, quindi sapevamo che il Rio Nero è una squadra organizzata sicuramente per il salto di categoria, quindi era molto difficile. Ci si aspettava un Paternicum più in palla? Ma io ripeto, non deve essere un alibi, però giustamente su una squadra come la nostra dove mancano 4-5 titolari diventa difficile. Oggi come oggi puoi incontrare un Rio Nero che gioca bene e diventa ancora più difficile. Si sono sentite particolarmente le assenze di Pascuzzo e Salvia, per esempio? Pascuzzo, Salvia, Lobosco, ce ne sono tanti, ma non sto qui a riecriminare poi effettivamente perché chi ha giocato ha dato il proprio contributo. Sicuramente ho dato la possibilità a qualche ragazzo di iniziare a giocare, la prima partita hanno esordito più di qualcuno, quindi andiamo avanti così. Cerchiamo di fare risultato domenica, sapendo che ogni domenica è una battaglia, quindi indipendentemente che sia stato oggi Rio Nero, domenica verrà a Brienza, sarà comunque una partita difficile. Come ha visto gli avversari? Gli avversari, come dicevo prima, è una squadra sicuramente organizzata. Non ho visto una squadra con dei difetti, anzi sicuramente è una squadra che se la giocherà alla pari con le altre che si sono organizzate per salto di categoria. Oggi una giornata segnata anche dal ricordo della scompassa di Fortunato. Sì, è stata una brutta notizia presa in questi giorni purtroppo della sua scomparsa e ci ha scossi un pochino tutti perché è una persona che nel nostro ambiente anche calcistico ha dato il suo contributo, quindi veramente ha lasciato qualcosina in tutti noi. Speravamo anche per lui forse ricordarlo in modo diverso. Non ci siamo riusciti. Per il paternicum, oltre a una tranquilla salvezza, cos'altro potrebbe uscire? Ora come ora l'obiettivo è quello di raggiungere il prima possibile la salvezza. Poi andiamo avanti domenica per domenica, quindi noi pensiamo domenica già di giocarci questa partita con il Brienza, di iniziare a fare dei punti perché è importante non restare non restare giù in fondo alla calcifica. Mario Cirigliano, veterano dell'eccellenza, conosciuto un po' in tutti gli ambienti. A tuo parere le pretendenti alla vittoria finale? Ma le pretendenti non sono io qui a dirlo, sono poi le squadre che si sono organizzate, lo sappiamo un po' tutti, il Rio Nero, il Grumentum, il Mondescaglioso, quindi faranno un campionato a sé, quelle 4-5 squadre, poi si vedrà se esce qualcosa che riesce a emergere come novità, ma io penso che quelle 4-5 squadre poi se la giocheranno fino alla fine. In ultimo, al di là delle assenze, qual è stato l'errore più grande oggi della tua squadra? L'errore forse più grande, io non lo so, è quello di partire un pochino già sapendo delle difficoltà con quel deficit, sapendo delle difficoltà che avevamo, cioè non avere quella convinzione effettivamente di potercela giocare veramente anche con il Rio Nero, sapevo che era difficile, lo sapevano anche i ragazzi, però mi aspettavo forse da questo punto di vista una squadra che comunque inizialmente ci avrebbe creduto nel fare il risultato. Continua il testa a testa tra Città dei Sassi e Angelo Cristofaro Oppido, entrambe le formazioni vingono per 4-0, i materani con Colamono, con Lovecchio e una doppietta di Dobrozzi stendono il Vigiano, mentre gli attobradanici riescono a vincere contro la Libertas Mondescaglioso grazie ai rigori di Cagno, Provenzio e Colella e alla doppietta di De Bonis nel finale. Avanza in terza posizione invece il Marmoplatano che in rimonda con la doppietta di Andoi riesce a ribaltare il tito che si era portato nel finale di primo tempo con Sandangelo. Troviamo a scalare in quarta posizione invece l'atletico Mondalbano che riesce a battere all'inglese il Milionico con Ripa e Di Pierro, mentre al quinto posto è la Santa Arcangiolese a insediarsi grazie a So che permette di battere il tricarico a 5 minuti dal termine. La Viribus Potenza batte per 3-2 il Cassimo Vigianello, mentre c'è da registrare infine la vittoria esterna della Tella in casa del San Cataldo grazie a Luongo.